Hello people, YouTube vuole che io faccio i video che vogliono loro, vogliono che io devo fare dei video di un certo tipo col telefono messo così con la cosa che parla di qua e invece voglio fare i video che fanno la 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 ora se no loro non mi pagano se io non faccio come dicono loro se faccio la 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 non mi pagano perché devo fare mettere il telefono così devo fare la cosa è così devo parlare di quello che vuole chi gli uomini le donne questo quello probabilmente sono profili fake e invece faccio la 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 Quando è bella la 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 Fare la 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 People Che cosa stai facendo? E devo essere serio La 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 Quindi Cosa si fa? Come è possibile fare dei video In cui qualcuno ti dice Quello che devi fare però sono uomini o donne Ma tante volte non sono Ne uomini né donne Perché sono dei profili che si cambiano Toffì Chiediamolo a Toffì Toffì cosa ne pensi tu? Facciamo un la 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 lalala 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 quindi youtube cosa facciamo io faccio il video che fa lalala i contenuti il contenuto sarà lalala lalala quindi oggi parliamo del lalala lalala come contenuto abbiamo Toffi come ospite testimonial dei lalala lalala Toffi cosa ne pensa lei dei lalalala lalala non si vergogna il Cidigui Cidiguis Cidiguis Toffi dai bacetto dai bacetto non fare la mogliettina brutta bacetti non mi dai bacetti non mi dai bacetti Toffi ti ho detto di darmi i bacini mogliettina schifosa ti domino ti domino ti domino mi dai bacetti mi dai bacetti mi dai bacetti mi dai bacetti rompermi le scatole, appena gliela punta addosso forse forse mogliettina racconta di perché si gira all'altra parte finalmente non rompe le scatole ti mordo vedi mogliettina schifosa mogliettina schifosa mogliettina schifosa intervista youtube dice che devo fare dei video in una certa maniera col contenuto che non deve essere messo così che devo dire quello che vuole le persone invece io voglio fare la 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 mogliettina la 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 mogliettina la 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 intervista alla mogliettina la 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 parte è mogliettina bella sembra che lo sa che questa è una teleca quindi poi la lunghezza quanto deve essere lungo youtube quanto deve essere lungo ditemi nelle vostre youtube il montaggio deve essere fatto con i trucchetti con i montaggi si deve utilizzare questo quello quello se no i video non me li fanno vedere non li posso non avranno mai mettiamo anche un effetto facciamo che sono dei trucchi dei trucchi mettiamo dei trucchetti faccio la voce questo qua profonda canto come un cantante lirico mettiamo un po di puppette computerizzate con artefici ricordo che siete sempre sul soc qua sempre sul socone stati ordinari di coscienza originali come i peccati originali stati ordinari di coscienza indotta accollata affibbiate quindi quando lo stato di coscienza è la normalità diventa qualcosa di incomprensibile pure se è compreso pure se deve essere compreso non importa se ha funzionalità o non funzionalità perché tanto viene interpretato continuamente da quello che già è stato interpretato c'è la normalità e già l'interpretazione di qualcosa che è stato interpretato e che è stato trascritto in più verrà reinterpretato dalla controparte o delle varie persone cose animali e funzioni sociali che stanno tra le varie parti che lo interpretano che lo traslano che lo traducono che lo inducono che lo comprendono male quelli che non riescono bene a fare ciò che si deve fare quindi comunque faranno qualcosa che interpreteranno o enunceranno come normalità quindi la normalità passa attraverso miliardi di persone o milioni di persone o poche persone secondo dell'insiemistica che unisce che viene presa sotto luce sotto interesse quella che non viene presa sotto interesse potrebbe essere la vera normalità ma non è quella che interessa a quel gruppo di interesse quindi la normalità nel SOC ONE cioè l'ordinarietà è quella che realmente viene fuori quindi ho spiegato che cos'è il SOCONE quindi realmente è modificata è alterata come se io dovesse dire la 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 qualcuno vuole che io faccia delle cose che io faccia che io bebbe fatto delle cose mentre io ne ho fatte altre faccio la 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 ma qualcuno potrebbe interpretare questo la 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 come un'altra cosa potrebbe dire il SOC ONE che non è che non l'ho detto, quindi fissare, indurre, abdurre, traslare, dire, fare, firmare, concretizzare, reagire a qualcosa che realmente non è esistito o comunque è esistito solamente per certi aspetti. Quindi la normalità ormai si è andata a farsi fotte. Questo è il video di quello che vuole YouTube, se no non si può fare niente, niente visualizzazioni, niente esploat, niente di niente, rimarranno solamente dei video di poco conto. secondo la normalità centro. Allora, Pipos, io e di altre persone logico, quindi continuerò a fare la 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 la. Allo Pipos, su come parlo, vi saluto.